C'è qualcuno che si ammazza, ho la soluzione in tasca, non chiamo l'ambulanza, filmo. Mi son tagliato con la carta, il panino troppa salsa, chissà come si sta in un cryo. Non succederà più, almeno per me, è il tempo che ho, lo uso per ostinarmi a dare un senso a tutto, quando poi banalmente, dell'elmo di scipio, nessuno sa niente. E fino hanno fatto, di bacchia e rotelle, e fino hanno fatto, la mia voglia di sport. A chi le boss dogs, i russi di yacht, i soldi che ho, va tutto in bollette, niente per sempre. Quanti libri ho letto oggi? Zero. Il mio angelo a custode? Piero. E con la cannuccia in carta, bevo succo d'arancio, sì ma da una bottiglia in plastica. No succederà più, almeno per me, è il tempo che ho, lo uso per ostinarmi a dare un senso a tutto, quando poi banalmente, dell'elmo di scipio, nessuno sa niente. Che cosa c'è dentro, nell'ammorbidente Che fine hanno fatto tutti gli ossi del nord E i treghetto, l'ossigeno Kong, i soldi che ho Nelle macchinette, niente per sempre E ora vedo dall'alto del nuovo terrazzo Il palazzo di fronte è più alto Mi sveglio la mattina, più stanco di prima A volte penso che la vita sia proprio puttana Va bene così, niente per sempre Ma nel modiscipio, cosa è veramente Pensiamoci dopo, rimandiamo a settembre Niente per sempre, no 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 Niente per sempre, no 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 Niente per sempre, no 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 Che fine hanno fatto, che fine hanno fatto Che fine hanno fatto i miei occhiali